Ciao a tutti amici, bentornati su Dite la vostra che io dico la mia. Parliamo della mancata elezione del giudice costituzionale da parte del Parlamento. Perché? Perché si ha aperto un caso già da diversi giorni. Prima la Meloni che cade nel trappolone della talpa di Fratelli d'Italia che di fatto svela le carte, svela che il gruppo si deve riunire con patto martedì, cioè si deve riunire oggi, per votare il consigliere giuridico di Palazzo Chigi, cosa che evidentemente è saltata perché la notizia è uscita e, come si suol dire in politica, il consigliere giuridico è stato bruciato. Probabilmente la Meloni è molto irritata. Dall'altra parte cosa c'è? C'è l'Aventino. Ma perché l'Aventino? Anche lì la domanda. La sinistra sceglie l'Aventino, la sinistra è 5 stelle. Ma se la maggioranza da sola non aveva e non ha i numeri per eleggere il giudice costituzionale, a cosa serve l'Aventino? Ve lo spiego io. A mio giudizio serve per controllare che nessuno dei parlamentari del PD o del Movimento 5 Stelle nel segreto dell'urna votasse per un candidato ovviamente di centro-destra. Quindi c'è poca fiducia da una parte con la Meloni che ha la ricerca della talpa, ma poca fiducia dall'altra perché l'Aventino dimostra tutta la debolezza del centro-sinistra e il 5 stelle su questa vicenda. Ovviamente il termometro della politica. Il Parlamento è all'ottava votazione e non riesce a scegliere un giudice costituzionale. Figura importantissima evidentemente per far funzionare la Corte Costituzionale. E allora cosa fare? Probabilmente anche qui servirebbe una riforma e la butto lì. Perché, visto che si parla sempre del potere del popolo, dell'elezione diretta del Premier, non si pensa all'elezione diretta dei giudici costituzionali, cioè della carta fondamentale dei nostri diritti e dei nostri duveri? Non sarebbe ovviamente più consono a una democrazia piuttosto che tutte queste litanie anche parlamentari che poi non portano probabilmente a nulla? Comunque staremo a vedere. Altra previsione, a mio giudizio, alla fine la spunterà un uomo del cosiddetto democristiano che possa contentare di qua e di là. E come al solito probabilmente ci avrà perso il popolo. Questa è la mia opinione, voi dite la vostra nei commenti e come al solito ci vediamo domani.